Ragazzi, poi appena vi siete cambiati le borse, su, dai! Ma non c'è niente! Ma non c'è niente! No, ma non ti vuoi! Non rimetti la mano! Non rimetti la mano! Giusto, la devi mettere! Non pare? Non pare! Non pare niente! Non pare Niente! Non pare niente! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.